Aggiungo due cose all'enorme episodio che ho fatto uscire nel podcast Narratrice Nomade sul tema come diventare narratori di audiolibri, perché penso siano doverose ma non ho sinceramente voglia di fare un episodio da dedicare a questa tematica, ossia ho parlato di competenze e di eventuali percorsi possibili per raggiungere o accrescere quelle competenze. Va da sé che ogni storia poi è diversa, chi arriva già da contesti artistici magari ha già pezzi di formazione, la mia stessa strada formativa è diversa da quella che ho proposto in senso di percorso all'interno del podcast. Quindi partiamo da qui, verità assolute non ce ne sono, io ho dato delle idee, delle prospettive, delle possibilità e ho scelto di condividerle in quel senso, in quell'organizzazione logica. Ma a valle del discorso, quindi alla fine di tutto un percorso formativo, non è detto e non è mai garantito da nessuno che un corso di formazione sulla lettura espressiva o un corso più completo per diventare narratore di audiolibri ti assicuri di diventare un narratore di audiolibri professionista. Perché faccio questa specifica? Perché una delle sottese, pretese di tante persone che scrivono a qualsiasi ora del giorno e della notte chiedendo informazioni su come si diventa narratore di audiolibri è quella di ok io mi formo quindi poi lavoro sicuro, bomba, ed è anche purtroppo una falsa promessa di alcuni corsi. Chi ti dice che con quel corso di formazione assolutamente lavorerai con la voce ma gli stessi corsi che si propongono lavora con la tua voce? Raga sono anche un po' cazzate perché questo mercato, il mercato della narrazione audio è giovane, qui da noi in Italia ovviamente, è acerbo, è comunque in qualche modo strettamente correlato alla dimensione artistica attuale che ha le sue regole, i suoi codici e spesso e volentieri è anche un po' esclusiva, quindi è chiusa, ok? Un corso di formazione non è garanzia di lavoro sicuro, così come non lo è il fatto di formarsi e poi proporsi a casa editrici. Ci sono dei rari casi, ho assistito fino ad ora ad un caso relativo a una casa editrice che sente la voce di questa persona e dice cazzarola voglio investire su di te, formati che poi gli audiolibri me li fai tu, non ho neanche idea di come sia andata a finire alla fine, se la cosa sia andata in porto oppure no, ma io penso che questa sia una questione tipo da bolide in cielo dopo 150 mila anni che non se ne vedeva uno, qualcosa del genere. Perché sto facendo questo pippone in aggiunta ai pipponi degli episodi precedenti? Perché davvero tante volte c'è un po' questa strana percezione del siccome è un lavoro del cazzo, basta avere una bella voce, formarsi un attimino, allora io mi propongo e le case editrici mi fanno lavorare. Ma non è così, non è assolutamente così, è una professione a tutti gli effetti, in un mercato giovane, instabile, in formazione e che purtroppo o per fortuna si stringe a braccetto con meccanismi e dinamiche di produzione che sono abbastanza esclusive. Quindi il mio invito è anche quello di guardare in maniera obiettiva un percorso formativo, come quando si va a scuola o si va in università. Non è che il giorno dopo la tua laurea automaticamente ti trovi in casella 50 proposte di lavoro perfette per il tuo ruolo. Tante volte una persona che ha costruito una carriera scolastica e si è costruita una professione poi va a fare tutt'altro. Quante volte succede a chi di noi è successo? E non è diverso con la formazione professionale. Scegliere di affrontare un percorso di costruirsi e di diventare un certo tipo di professionista non combacia per forza con il lavoro sicuro. Quindi per favore quando incappiamo informazioni che ci promettono lavoro sicuro e ti dicono ah guarda che poco, minimo sforzo, massima resa, soldoni sicuri eccetera eccetera. Accendiamo entrambi gli emisferi e cerchiamo di capire se si tratta di una comunicazione enfatizzata per rispondere ad una domanda sul mercato, ad una domanda formativa sul mercato in questo caso o se si tratta di una bagianata. Aggiungo un'ultima cosa onde evitare di venire fraintesa e quindi passare l'errato messaggio del ah quindi i problemi sono che il mercato è un po' chiuso oppure ah i problemi sono i corsi che promettono e non mantengono. Questi sono problemi oggettivi ma tra i problemi oggettivi ci sono anche le persone che senza alcun tipo di formazione e senza alcun tipo di studio, di professionalizzazione alle spalle si propongono a studi e case editrici con maleducazione, senza modo e appunto senza competenza al grido di ma sì una volta ho letto in pubblico e mi hanno detto che ho una bella voce o perché magari hanno fatto un video su youtube. Ecco il problema non è mai uno e la responsabilità è sempre ripartita quindi c'è anche una grossa fetta di responsabilità individuale e anche su questo vorrei porre un attimo l'attenzione perché è un po' come le cipolle no? Sono problemi su problemi su problemi che stratificati danno quello che poi abbiamo come risultato del mercato attuale. Detto ciò so che avrò perso una merida di follower dopo questa esternazione, questa opinione impopolare ma non mi interessa perché preferisco essere onesta con me stessa e con le persone che mi seguono e soprattutto con le persone a cui faccio consulenze o formazioni la responsabilità individuale per me è una chiave di divisione della vita se si può dire così e non mi piace pensare e agire nella vita come se la colpa sia sempre esterna sempre di qualcun altro sempre di qualche dio che ce l'ha con noi insomma se tutti facciamo il nostro no in qualche modo costruiamo qualcosa di più bello Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.